qui con giulio che è diciamo il nostro attore produttore regolatore di tutto e quindi giulio come ti è sembrato goditela secondo me un bello slogan soprattutto per noi adolescenti insomma è una cosa che ci rappresenta abbastanza e secondo me bisogna seguirlo abbastanza importante insomma come 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 slogan come motivo come sono state le riprese ti sei divertito abbiamo incontrato difficoltà ma no ti dico la verità boll inizio con l'organizzazione delle riprese con le cose però alla fine diciamo che si è molto molto divertente fare riprese insomma le riprese è una cosa bella secondo me va bene signori giulio miele lei francesca e francesca come ti sono sembrate le riprese di goditela è stata molto divertente è stata un'esperienza molto affermativa per me e spero che sia usciuto bene ti diciamo ti rivedi nel personaggio che mi ha detto in realtà non molto diciamo che nella scena io sono innamorata perdutamente di giulio e vengo bullizzata da gianna un risco poi diciamo questa è una cosa che nella vita reale non accade quindi è stata una sfida per me dover fare questa cosa va bene vuoi dare un messaggio a quelli che ci stanno guardando allora voglio dire che comunque voi non dovete mai sentirvi esclusi dai bulli e non dovete ascoltare signori lei è francesca la prima del resto allora francesca tu credi che sia un personaggio che combaci con la tua personalità assolutamente che cosa ne pensi del del progetto ti piace molto come ti sta a sembrarmi se credi che stia venendo sicuramente ha qualche errore perché alla fine non siamo esperti però bene allora lei è andrea e andrea come ti senti nei panni del tuo personaggio diciamo che sia il mio agio che cosa ne pensi del progetto che stiamo organizzando che sia utile che cosa ne pensi del nostro cast abbiamo un cast molto importante fatevi scherzi non è esperto però grazie vuoi dire qualcosa a chi ci sta guardando vedete questo spot perché è super sono qui con Giacomo e Giacomo interpreta la parte del bullo nello sport di godi te la Giacomo come ti senti nei panni del tuo personaggio allora direi che è un personaggio molto difficile da interpretare deve avere un carattere molto schietto a dire il vero e quindi te ne devi fermare proprio di niente di niente cioè ok allora come ti sono sembrate le imprese di godi gelato? beh le imprese di godi gelato cioè comunque un'ottima Giacomo hai qualcosa da dire a chi sta guardando questo spot? ricordate i bulli sono delle persone cattive siamo qui con la nostra intervistatrice, attrice, social media manager tutto il mondo vuole fare lei come si sente a fare tutte queste cose in questo magico gruppo questa magica classe qualcosa? alber sinceramente mi sono davvero divertita tantissimo durante le riprese di godi gelato è stata veramente un'esperienza questa magna certamente è stato difficile gestire tutte queste cose però diciamo a me la sono scavata schifo con l'aiuto di tutti quanti quindi diciamo io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato per il video e lei ho creato lo slogan l'infanzia passa allora però la gioventù è per sempre ok allora l'hashtag godi gelato ho creato io mi era venuta per quest'idea lo slogan invece è stato creato con la collaborazione della professoressa Cosentini che ringraziamo io veramente mi sono divertita tantissimo niente e che piace finiscono qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti